La rivalità a Chieti-Pescara si accende anche sugli ospedali. Torna a far discutere infatti la promozione a Dea di secondo livello dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, tanto ospicata dal sindaco Carlo Masci. Masci infatti ha scritto una lettera al governatore Marco Marsilio, al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e all'assessore alla sanità Nicoletta Verì, affinché si affronti, scrive il primo cittadino, la questione di questo fondamentale riconoscimento è il prima possibile. L'ospedale di Pescara infatti è l'unico che supera i 70.000 accessi annuali, accogliendo l'80% delle emergenze abruzzesi. Sicuramente il Dea di secondo livello rispetto alla normativa vigente non può che essere fissato sull'ospedale di Pescara. D'altronde le proposte avanzate dalla precedente giunta regionale di centro-sinistra, le tre proposte avanzate di un Dea condiviso per scaricchiesi sono state irrimediabilmente bocciate dal Ministero. Ora, credo che questa nuova giunta debba guardare avanti e prospettare l'ipotesi unica che può essere effettivamente realizzata, cioè l'ospedale di Pescara come Dea di secondo livello, perché l'ospedale di Pescara ha tutte le caratteristiche per esserlo, ma caratteristiche che non sono quelle indicate dal Sindaco Masci, sono quelle indicate dalla legge. Quindi tutti gli altri discorsi lasciano il tempo che trovano. Sulla questione è intervenuto anche l'assessore al turismo e le attività produttive Mauro Febbo, per preservare il nosocomio teatino. Secondo il Forzista, infatti, l'ottimizzazione delle prestazioni si ottiene solo integrando i due ospedali, quello di Chieti e quello di Pescara, creando una vasta cittadella della sanità. E questo perché, a detta dell'assessore, il maggior numero di unità operative complesse dei vari reparti a Pescara è stato determinato dall'ex governatore D'Alfonso, il quale non ha potuto, per motivi strutturali, spostare cardiochirurgia e la facoltà di medicina. Carlo Masci se ne faccia una ragione, ha dichiarato Febbo, bisogna evitare i campalinismi.